Pensiero del giorno. Sono una cosa sola con Dio e con tutti gli esseri. Sono una cosa sola con l'amore divino. Adesso affido al cielo ogni paura o indecisione. Lascia andare paura e indecisione. Non c'è niente di cui aver paura. La paura è solo un eco che risuona dalle profondità della tua memoria. Dal periodo in cui l'ego umano cercò di separarsi da Dio. Tale impresa è impossibile. Quindi fu presa la decisione di creare una coscienza collettiva per diminuire la consapevolezza del divino. In altre parole si verificò un'amnesia di massa riguardo all'amore nel tentativo di simulare l'indipendenza dal cielo. Questo è un momento in cui nacque il libero arbitrio. Il modo per uscire da questa trappola è ricordare sempre che sei una cosa sola con Dio e con tutti gli esseri. Questo fatto semplice ma profondo ti ricorda che ogni paura è basata sull'illusione. Quindi oggi afferma spesso la tua unità con il cielo. Senti la tensione abbandonare il tuo corpo e la tua coscienza mentre riconosci la verità spirituale insita in te stesso e in ogni situazione.